Dopo due mesi che è in vigore questa normativa relativa al Green Pass obbligatorio per chi cena o pranza dentro il ristorante, quanto sta incidendo per voi? Abbastanza perché ancora molte persone non ce l'hanno, quindi ci siamo dovuti attrezzare nella veranda con i funghi che riscaldano un po' l'ambiente perché molta gente ancora non ce l'ha, quindi ovviamente siamo penalizzati. A livello di clientela invece l'afflusso di gente come prima oppure ci sono state delle differenze, delle variazioni? No, ovviamente è minore l'afflusso e anche perché dentro il ristorante dobbiamo comunque seguire la distanza di sicurezza, quindi ovviamente i posti si sono ridotti ovviamente. Abbiamo attraversato un inizio molto brutto all'inizio di settembre, i primi giorni, con un notevole calo di affluenza che poi diciamo siamo ritornati ai vecchi numeri. Abbiamo una piccola sala riservata che non si è vaccinato, che non può vaccinarsi, però ringraziamo di cuore tutta la clientela che frequenta il nostro locale e che ha fatto i vaccini perché ci danno la possibilità di lavorare in sicurezza perché abbiamo anche tutto il personale vaccinato e perciò ci dà la sicurezza che quantomeno è un ambiente controllato. Io sono favorevole a mantenere il Green Pass perché è una garanzia per tutti, sia per chi è che ha fatto il vaccino e sia anche per le persone che non possono farlo, i bambini e le altre persone perché in questo momento non credo che sia il momento di abbassare la guardia ma addirittura siamo costretti chi è che ha la possibilità di fare la terza dose proprio per prolungare questo beneficio del vaccino. Quanto sta incidendo per voi questa normativa? Sta incidendo veramente tanto nel senso che lavoriamo al 50% di capienza, quindi sicuramente una grossa perdita in partenza e in più col fatto che non tutti hanno il Green Pass l'affluenza è molto minore rispetto a prima. Noi abbiamo la fortuna di avere un gazebo esterno con stufette riscaldate per mettere gente, se no sicuramente d'inverno lavoreremo ancora meno. Spero che tolgano l'obbligo di entrare dentro al ristorante solo con l'uso del Green Pass. Ovviamente credo che sia giusto mantenere le distanze che ci sono ora, però il fatto del Green Pass comunque è veramente tanto limitante per noi. Grazie. Grazie.